Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Come potete vedere oggi ci troviamo di fronte a uno dei content che molti effettivamente mi hanno richiesto sotto nei commenti e che a me fa comunque piacere trattare perché appunto è una sfida piuttosto particolare quella delle summon dove bisogna preparare comunque dei setup, bisogna preparare effettivamente una squadra degna di poter affrontare questi nemici che se presi sotto gamba possono dare comunque delle complicazioni. Ciò che bisogna dire è che innanzitutto Ifrit è la summon più semplice da affrontare. È la summon più semplice da affrontare perché abbiamo la possibilità di poterla ottenere quasi subito avendo comunque il suo trial a normal con 48.500 di power. Altra cosa che però vi voglio dire è non sottovalutate il livello raccomandato di power quando praticamente il livello di power sta sotto 50.000 perché ovviamente avere un team da 100.000 e poter affrontare una missione da 110.000-115.000 è un conto avere un team che possiede 20.000 di forza e affrontare una missione a 40.000 è un altro conto. Ovviamente il rapporto danni, cure e HP è nettamente diverso tra un team di 20.000 e un team di 100.000 quindi in questo caso Ifrit, potere raccomandato 48.500, cercate di rispettarlo o addirittura superarlo che è una cosa che comunque consiglierei a priori. A differenza comunque poi delle altre summon che comunque sia Shiva che Ramu avendo comunque questa difficoltà di 60-90k già con un team messo abbastanza bene si riesce ad affrontare senza grossi problemi. Oggi che cosa facciamo? L'avevo già registrata però purtroppo ho erroneamente cancellato la registrazione purtroppo perché non me ne sono reso conto e mentre stavo montando altri video ho perso letteralmente la registrazione ma ho praticamente già completato il trial di Ifrit ad hard proprio perché è inutile che lo vado a ricompletare a normal perché è fin troppo semplice e quindi per fare un contenuto diverso volevo portarvi il complete del trial hard cosa che rifaremo perché non è un problema la rifaccio, vi faccio vedere il mio setup vi faccio vedere come controllare i boss e come impostare il vostro setup una volta controllati i boss quindi non c'è problema detto ciò speriamo anche di droppare l'arma 5 stelle perché la prima volta che ho completato non l'ho droppata anche perché ripeto il drop delle summon è un po' particolare va in base al vostro rank quindi più il vostro rank è alto più probabilità c'è di ottenere appunto le armi migliori quindi se notate che completate lo stage con un rank C, D, anche B volendone un gran che sinceramente vi direi lasciate perdere e tornateci quando lo completerete anche in auto possibilmente però con il rango S allora che cosa bisogna fare prima di cominciare una boss fight del genere innanzitutto guardare che cosa c'è quindi guardare quali sono le wave guardare quali sono i nemici e vedere effettivamente se abbiamo i requisiti necessari per poterli affrontare le prime due ondate sono abbastanza semplici a prescindere quindi diciamo che non ho grosse difficoltà in generale però è giusto comunque controllare i Fire Rangda e i Piros che comunque sono deboli al ghiaccio non hanno nessun sigillo particolare quindi possiamo affrontarli tranquillamente potete cliccare sul nemico per controllare se ci sono delle immunità aggiuntive che non vengono viste dalla prima schermata e questo vi consiglio di farlo sempre perché in base a questo potrebbe dipendere il vostro intero setup e la vostra intera strategia come in questo caso per esempio i Fire Rangda sono immuni al Poison e poi vi descrive anche quello che fanno all'inizio della battaglia usano un attacco di fuoco elementale che si chiama Flame Dance e gli attacchi fisici sono efficaci contro questo nemico quindi è possibile comunque colpire tramite attacco fisico poi abbiamo anche i Piros che sono immuni allo stun in questo caso e sono estremamente vulnerabili al ghiaccio quindi la weakness ghiaccio in questo caso è un per due o per quattro se vogliamo intendere come i Pokémon che quindi è tipo efficace o super efficace quando gli HP scendono sotto ad un certo punto usano un potente attacco multi-target che si chiama Burst per ridurre i propri HP a zero quindi bisogna eliminarli successivamente quando stanno per esplodere perché loro si fanno esplodere quindi dobbiamo eliminarli prima che esplodano e poi abbiamo Ifrit Ifrit che anche lui è debole al ghiaccio possiede il sigillo a X che dobbiamo comunque breccare il prima possibile e poi possiede il sigillo abilità questo sigillo è molto particolare perché non è un sigillo che si può craftare tramite le varie materie ma è un sigillo che va breccato utilizzando abilità che cosa vuol dire? vuol dire che noi prima dobbiamo distruggere il sigillo a X quindi dobbiamo necessariamente breccare il primo sigillo una volta breccato il primo sigillo potremo breccare il secondo che è proprio il sigillo abilità quindi dovremo effettuare le abilità dei nostri personaggi vanno bene qualsiasi tipo di abilità e praticamente breccare questo sigillo e rendere poi il nostro avversario vulnerabile per quanto riguarda Ifrit ovviamente cliccateci perché come potete vedere abbiamo diversi abbiamo diversi immunità che praticamente il nostro boss possiede immunità a blind immunità a silenzio immunità a stun immunità a fatica immunità a fog e anche immunità a l'abbassamento di attacco fisico e attacco magico quindi qui noi non possiamo debuffare il punto di vista offensivo in nessun modo però funzionano i debuff di difesa quindi sia Cloud che Eris qui come debuffer o una tifa in generale potrebbe essere un'ottima soluzione per incrementare il debuff di difesa fisica soprattutto contro il nostro avversario la sua potenza di fuoco cambia in base alla sua force gouge che si chiama ignition quindi iniezione infatti Ifrit caricherà questa barra e noi dovremo spegnerla letteralmente che possiamo comunque ridurre tramite abilità di elemento ghiaccio distruggere più sigilli durante l'inceneramento provoca una potenza minore di Hellfire che sarebbe comunque la sua fase diciamo più pericolosa perché quando poi il nostro avversario carica il suo Hellfire dobbiamo breccarlo per evitare di farci colpire o comunque spezzare più sigilli possibili per indebolire il suo attacco non c'è nient'altro da dire quindi il mio setup è già pronto perché appunto l'avevo già fatto quindi l'avevo già anche commentato ma lo ricommentiamo in questo caso giocheremo in modalità semi-automatica proprio in modo tale che io possa controllare Eris la curatrice però il mio setup è composto in questa maniera abbiamo Zack che comunque fa danni e non ha problemi dal punto di vista soprattutto degli HP dove abbiamo messo una cura aggiuntiva per dare una mano nell'eventualità dovessi fullare un personaggio che viene targettato due volte di fila da Ifrit perché può succedere quindi bisogna refullarlo il prima possibile sigillo a croce che ovviamente ci serve per il break blizzara blow che ci serve ovviamente per fare danni e la cura proprio per il motivo di cui vi ho parlato poco fa come potete notare questi sono i sigilli che si vanno a breccare con le abilità quindi basta che noi utilizziamo una qualsiasi di queste abilità abbiamo la possibilità comunque di breccare i sigilli quelli là di abilità che si sbloccano dopo quindi per ricollegarci al discorso di prima Eris poi vabbè con la skin che aumenta HP e cure Fairy Tail come arma principale per le cure aumentate seconda arma abbiamo il Sun Umbrella per debuffare la difesa fisica e la difesa magica Barrier che in teoria non andrò ad utilizzare ma che ho messo solo per eventualità perché comunque Ifrit può fare un dash contro i nostri diciamo contro i nostri alleati quindi possiamo proteggere con il Protect in questo caso Barrier appunto dallo schianto di questo attacco fisico dato che noi non possiamo utilizzare comunque indebolimento di attacco fisico poi abbiamo la magia Blizzard e poi vabbè ovviamente il il Ruin in questo caso con il sigillo a croce che ci serve proprio per breccarlo Cloud invece sarà il nostro DPS ovviamente Murasame come arma principale ed Hard Edge come arma secondaria per il debuff della difesa fisica Ruin Blow che in questo caso mi aiuta per il sigillo Blizzara Blow per fare ancora danni e poi ho messo qui un altro sigillo che non mi serve a niente semplicemente per avere la risonanza con la sua spada e quindi permettergli di essere un po' più offensivo e quindi essere un po' più forte ma ovviamente l'ultimo slot di Cloud in questo caso non mi serve a niente allora non facciamo il per 3 perché sinceramente devo registrare anche le altre summon e quindi direi che come setup ci siamo let's go allora le prime wave non c'è grossa difficoltà sono comunque dei mob abbastanza easy da buttare giù però noi ovviamente cerchiamo di buttarle giù il prima possibile sono deboli ovviamente al ghiaccio come potete vedere utilizzano Flame Dance che era per l'appunto l'attacco il primo è già stato spazzato via qui abbiamo il debuff di Cloud qui cambiamo la nostra stance anche se non subiamo troppi danni però ok e sono andati via i nostri amichetti qui abbiamo Cloud che già subito debuffa qui facciamo una cura tattica per tutti quanti qui ora facciamo attenzione ecco qua eliminiamolo subito perché poi sapete che i Piros tendono a farsi esplodere quindi noi non gli diamo la possibilità di poterlo fare altra cura tattica veloce vedete Burst che qua praticamente ci vuole si vuole far esplodere e noi invece lo eliminiamo prima qui abbiamo stessa cosa vedete Blizzara Blow che è incredibilmente efficace altra cura qui incomincia a caricare il Burst e noi invece ora lo sciocchiamo via e adesso tocca al nostro paparino eccolo là bello incazzato come una bestia ok incominciamo in Isshon quindi qui cominciamo a spegnerlo il più possibile vedete lui ogni volta che attacca ogni volta che attacca lui carica quindi dobbiamo fare in modo di attaccarlo spesso e volentieri per abbassare il più possibile ok l'abbiamo praticamente spento perfetto ora ricarica noi qui facciamo la cura diciamo per mantenerci perché vedete sta caricando Eris in questo caso quindi io faccio una barrier però l'ha fatta Cloud la cosa non va bene ok charge noi abbiamo barrier difesa e come potete vedere possiamo tancare l'attacco abbastanza bene oserei dire anche ok stiamo facendo comunque dei buoni danni ovviamente i blizzard a blow aiutano e qui ora dobbiamo breccare quindi andiamo pesantemente con il break qui non c'è bisogno di curarsi niente perché ora l'unica cosa che posso fare è curare al volo un attimo Eris per perché comunque ci arriviamo abbondantemente a breccare allora qui c'è un airfire noi lo pariamo ok come potete vedere i danni sono stati molto molto bassi ok e a questo punto ora possiamo breccare tramite i sigilli abilità quindi qualsiasi abilità noi andiamo a fare lo andiamo a breccare ora manca l'ultimo boh breccato doppia limit con debuff a livello 3 quindi faremo un gran bel danno bene così ovviamente approfittiamone che è breccato e la nostra barra TB si ricarica più velocemente per per infliggere dei bei danni qua facciamo una cura giusto per e qui eliminiamo il nostro amichetto quindi direi che con questo setup abbastanza semplice anche la sfida a 100 e passa di difficoltà vediamo se abbiamo culo e otteniamo la spada 5 stelle che ancora non l'ho presa ok il rank A si può fare di meglio però il rank A è comunque buono è decente vediamo oh niente addirittura droppa 3 stelle proprio mi sa che qua dobbiamo andare a S per tentare di ottenere la spada 5 stelle perché se no è completamente finita e quindi questo era effettivamente quello che si fa o comunque quello che io faccio per per battere Ifrit quindi anche questa sfida è stata completata e noi ci possiamo vedere con il prossimo video dove appunto andremo ad affrontare Shiva vediamo se affronteremo Shiva in hard ci proviamo vedremo comunque per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima bye bye ciao 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 Grazie a tutti.